6 vittori, un solo pareggio nel primo turno di campionato del Girone E di Serie D. La Robur batte il Sandorato Tavarnele spezzando l'equilibrio soltanto nel finale con Gallegani abile a sfruttare un errore di Carcani. Ruba all'occhio il 3-0 del Grosseto che liquida la pratica orvietana in 12 minuti. La squadra di Roberto Malotti la sblocca al quarto della ripresa con una punizione chirurgica di Riccobono che poi partecipa anche al raddoppio suo, il cross ribattuto e trasformato in oro da Guerrini. Il sigillo finale di Mobilio che sfrutta un assist al bacio di Macchi. Il punteggio più largo lo regala però all'Ostiamare che annichilisce 4-0 il Giviborgo. Pinna, apre i giochi su azione da calcio d'angolo al 32esimo. Cuco raddoppia 7 minuti più tardi su calcio di rigore esultando con le capriole. L'attaccante ivoriano lo scorso anno alla Pianese si ripete al nono minuto della ripresa sempre dal dischetto nonostante Bonifacio intuisca la traiettoria. Il poker è firmato da Persichini mandato in campo nella ripresa da mister Simone Minincleria al debutto da allenatore dopo una carriera che lo ha visto passare anche da Siena. L'altra vittoria esterna della prima giornata, oltre a quella della Robur, è del Poggi Bonzi a cui basta un calcio di rigore per piegare a domicilio il Trestina. 1-0 a 3 dal novantesimo di Belli che del Trestina è stato capitano prima di cambiare maglie in estate. Scoppiettante l'incontro tra Flaminia e Montevarchi. I padroni di casa passano in chiusura di prima frazione con Celentano su assist di Casoli ben servito da Sirbu e sempre Sirbu ispira il raddoppio mandando al tiro Malaccari. Ci pensa involontariamente l'ex Siena Paramatti a riaprire la gara a fallo di mano su tiro di Ciofi e calcio di rigore trasformato da Orlandi. Di Fazio tocca ma non basta. Neanche due minuti e arriva il pari. Orlandi disegna per Sesti che di testa firma il 2-2. Vittoria anche per il Figlini a cui basta un gol di Zellini all'84esimo dopo un'azione insistita per piegare la San Giovannese. Stesso risultato infulge il Sfoligno Terra Nuova Traiana. La sfida delle neopromosse va agli Umbri grazie a Tomassini che finalizza una bella giocata di Calderini. Si recupererà mercoledì Fezzanese-Seravezza-Pozzi mentre manca ancora una data per Follonica-Gavorano-Livorno. Altra gara rinviata per maltempo.